Buongiorno ragazzi, quali valori di x soddisfano la seguente equazione nell'intervallo 0,2π? 2 coseno al quadrato di x più 5 sen x uguale a 4. Due soluzioni, quattro soluzioni, sei o otto soluzioni. Vediamo insieme la nostra proposta di soluzione. Riscriviamo il testo e andiamo a sostituire al posto del cosquadro 1-senquadro utilizzando la relazione fondamentale della goniometria. Più 5 sen x uguale a 4. Svolgiamo un pochino di conti e ci ritroviamo ad avere un'equazione di secondo grado in seno. Portiamo tutto da una parte, cambiamo poi anche tutti i segni e la risolviamo come una normale equazione trovando le due soluzioni che corrispondono ai due valori del seno di x. Dopodiché risolviamo queste per trovare le x. Siamo arrivati a quest'ultima forma. 2 sen quadro x meno 5 sen x più 2 uguale a 0. Le due soluzioni del seno si può anche fare un cambio di variabile sen x uguale a t o risolvere subito con la formula per l'equazione di secondo grado. otteniamo 5 più o meno la radice di 25 meno 16 fratto 4. Quindi abbiamo le nostre due soluzioni. Le due soluzioni, qui ho scritto x1 e x2, ma sono sen x entrambe. 5 più 3 fratto 4, cioè 2, e 5 meno 3 fratto 4, cioè un mezzo. Quindi adesso dobbiamo risolvere seno di x uguale a 2 e seno di x uguale a un mezzo. La prima ovviamente non è accettabile, ragazzi, perché il seno non può avere valori maggiori di 1. Se in x invece è uguale a un mezzo, mi dà soluzioni. Vediamo quali sono le soluzioni nell'intervallo richiesto dal quesito 0,2π. Sono esattamente 30 gradi o π sesti e 150 gradi o 5 sesti π. Sono quindi due soluzioni, ragazzi. Questo significa che la risposta esatta per il nostro quesito è la A.